Siamo nella zona sud-occidentale della città di Milano. Questo è un cantiere MM acquedottistico, si tratta di un risanamento no-dig ed è la tubazione principale acquedottistica che trasporta l'acqua dalla nostra centrale di Assiano fino al centro della città. Questa scelta tecnica ha permesso di abbattere in maniera importante l'impatto ambientale del disagio del nostro progetto. Abbiamo circa 170 metri cubi di acqua che vanno a riempire questi circa 160 metri di tubazione. Siamo riusciti quasi a triplicare la lunghezza degli inserimenti finora mai fatti. Vuol dire ridurre di un terzo il numero degli scavi e le aree da canterizzare. è abbastanza rapida la tecnologia che viene utilizzata per questo risanamento e infatti nel giro di 24 ore è completamente risanato. un progetto molto più efficiente e rapido.